Tre partite e 270 minuti a disposizione per invertire la rotta e cercare di ribaltare le sorti di una stagione mai davvero decollata. Il trittico di gara di regular season in casa udace Cerignola avrà inizio domani sera alle ore 20.45 con la Virtus Francavilla che farà visita al Monterisi in occasione del 36esimo turno del gironecci di Serie C. Gli ufantini vengono dalla prova in colore di Picerno in cui per l'ennesima volta in questo campionato sono risultati fatali gli ultimi minuti. Secondo K.O. per 2-1 dell'era Raffaele dei buoni secondi 45 minuti di gioco con diverse chance create ma con la disattenzione difensiva allo scadere che ha fatto la differenza e ha pesato più che mai facendo sì che si uscisse a mani vuote in terra lucana. Non ci si è schiodati dai 44 punti in classifica dunque per la formazione giallo-blu che si è vista scavalcare dal sorrento ora decimo e al momento ultima pretendente alla zona playoff con un punto in più al pari del Foggia. È senza dubbio uno dei momenti più bui per il Cerignola dal suo ritorno nel calcio professionistico e i numeri parlano chiaro. Una sola vittoria ottenuta nelle ultime 12 partite, 11 col fatti e ben 19 al passivo con la porta rimasta inviolata appena due volte contro Turris e Taranto. Avversario di giornata alla Virtus Franca Villa terz'ultima della classe a quota 33 e a caccia di punti in ottica salvezza. I biancazzurri vengono dal successo di misura per 1-0 inflitto al Catania e al contrario del rendimento casalingo fatto di 7 risultati utili consecutivi zoppicano vistosamente in trasferta. Peggior score del Gironici con appena 7 punti raccolti e 6 sconfitte di fila. L'unica affermazione lontano dalla nuova Redo Arena è targata, ottobre a Torre del Greco. Si tratterà del terzo confronto tra i professionisti tra le due compagini che all'andata impattarono sul 3-3. Lo scorso anno invece 1-1 sempre a Franca Villa e vittoria per 1-0 del Cerignola tra le muramiche grazie al sigillo decisivo di Malcore. L'ultimo successo della Virtus al Monterisi risale al 2007 nel campionato di eccellenza. Riguardo le scelte diversi dubbi informazione per ciò che riguarda il 3-5-2 dell'audace in attesa della conferenza pre-gara di Raffaele delle ore 16. Potrebbero rivedersi dal primo minuto sia Krapikas che Eligi con quest'ultimo che comporrebbe il terzetto difensivo insieme a Gonnelli e Vicentin. Dovesse essere risparmiato l'ex Triestina, tornato tra i convocati la scorsa settimana dopo quattro mesi, probabile la riconferma di Coccia come Braccetto. Il numero 7 dovrebbe comunque presidiare la posizione di quinto a destra con Tentardini a sinistra. Per quanto concerne il centrocampo da sottolineare la fase di recupero per Bezzon e soprattutto la situazione legata a Zach Ruggero. Per l'italo-inglese campionato finito intervento chirurgico. Nella giornata di ieri al menisco del ginocchio destro. La titolarità in mezzo al campo dovrebbe quindi riguardare Bianco, Saizmazza e Tascone. Spera Bianchini. In attacco infine in tre per due maglie con Vutai, Malcore e D'Andrea in corsa. Dopo i due gol nelle ultime tre, l'albanese ex Foggia sembrerebbe avere più chance per la maglia da titolare. Diversi dubbi e molte defezioni dunque per questo Cerignola i cui infortuni in quest'annata storta non sono però mai stati un alibi. Tornare alla vittoria e sperare ancora. Aritmetica permettendo è l'obiettivo.